Linea diretta, voce ai cittadini, l'amministrazione risponde. Ogni martedì alle 18, in diretta web su quotidianodigela.tv, il sindaco e la giunta rispondono alle domande dei cittadini. Live sulla pagina Facebook del quotidianodigela.it Ben trovati da Luca Maganucco per una nuova puntata di Linea diretta, lo spazio istituzionale del comune che noi concediamo per consentire a tutti voi di dialogare con l'amministrazione comunale, con tutti i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Lo potete fare sul nostro profilo ufficiale della pagina Facebook del Quotidiano di Gela, ma anche sulla nostra web tv, tutte in HD, quotidianodigela.tv e naturalmente sul canale del digitale terrestre 621 di Antenna 7. Ospite in studio oggi l'assessore, l'assessore Licia Bela, non è la prima volta che viene qui a trovarci, abbiamo tantissimi argomenti a affrontare con lei, intanto la salutiamo Assessore, grazie di essere qui con noi. Grazie per l'invito e buonasera a tutti. Assessore ai servizi sociali e all'istruzione, quindi tantissimi argomenti. Intanto iniziamo con qualcosa di importantissimo e di propositivo. Finalmente quest'anno il servizio scolastico della menza è iniziato in maniera puntuale. Cos'è riuscito ad apportare? Qual è stata la modifica, la miglioria che finalmente è riuscito a garantire un servizio efficiente e puntuale? Direi che la parola chiave per rispondere bene a questa domanda sia solo una, cioè la programmazione. L'anno scorso questa amministrazione ha mandato in gara un servizio che all'inizio sembrava avere delle vicende che rallentavano l'inizio. Memori di questa esperienza abbiamo raccolto quelle che erano le problematicità e abbiamo tentato ovviamente di riuscire ad apportare le giuste modifiche per fare in modo che il servizio partisse in maniera puntuale e che fosse soprattutto continuativo. Ed effettivamente così è stato. Questa amministrazione infatti ha avuto la possibilità di poter offrire ai giovani discenti e ovviamente alle famiglie che ci sono dietro che soffriscono di questo importantissimo servizio che ritengo sia un servizio appunto qualitativamente importante proprio per la vita dei bambini soprattutto e delle famiglie che soffriscono di questo servizio è potuto partire finalmente puntuale. Abbiamo cominciato con un piccolo record per quel che riguarda il comune di Gela, siamo partiti infatti ad ottobre di quest'anno scolastico quindi ottobre 2016 e completeremo nel maggio quindi questo mese il 31 maggio del 2017 il servizio senza alcuna interruzione. Un piccolo record positivo ovviamente che nasce ripeto da una concertazione, da un lavoro attento e capillare che ci ovviamente riproponiamo di rifare lo stesso anno. Non dimentichiamo che dietro un servizio come quello della mensa infatti non c'è solo un servizio che va ovviamente ad essere importante per i bambini che ovviamente vivono questo momento come un momento conviviale di scoperta importante nei confronti dell'alimentazione e di confronto anche rispetto agli altri compagnetti con i quali si trovano. Ma è un momento importante formativo perché ovviamente dà anche la possibilità a tanti operatori del settore di riuscire a lavorare. Dietro un servizio mensa come quello che viene svolto a Gela infatti vi sono diverse maestranze. Sono circa 70 le lavoratrici che vengono impiegate direttamente nel servizio mensa quindi tra cuochi e operai di vario genere che poi trasportano i cibi dei centri di cottura nei luoghi dove viene erogato il servizio oltre al fatto che anche le scuole ovviamente devono potenziare il loro apparato di personale e quindi questo comporta anche dei posti di lavoro che ovviamente vengono ad essere importanti sul nostro territorio e ad incidere particolarmente. Ci riproponiamo il prossimo anno di partire proprio con la stessa forza con la quale siamo partiti quest'anno quindi con la programmazione che è già in atto da diversi mesi stiamo mandando in gara. A giorni verrà pubblicato il bando sulle gazzette appunto ufficiali per dare in modo di espletare per tempo tutti gli adempimenti di carattere burocratico che servono proprio per fare in modo che il servizio possa partire puntuale e possa ovviamente continuare senza soluzioni di continuità fino alla fine ovviamente dell'anno scolastico. Abbiamo puntato soprattutto su delle caratteristiche cioè non è solo un servizio che deve essere economicamente favorevole. Certo l'economicità è una delle priorità e delle caratteristiche soprattutto nell'ambiente economico e sociale nel quale viviamo. Quindi dare una mano proprio economicamente diventa un fattore importante quindi guardare l'aspetto economico ma abbiamo guardato soprattutto alla qualità perché non si può pensare che un servizio mensa possa essere scadente solo perché si tratta di grandi numeri. Non è così, non è stato così. Quest'anno i controlli e anche l'anno scorso da parte del settore istruzione quindi di tutto quello dell'apparato proprio interno del comune. Oltre al fatto per esempio delle altre visite provenienti da ASP, dai NAS hanno rilevato che vi è una qualità del servizio e una filiera sicuramente controllata. Quindi questo ci fa ben sperare e ci è da auspicio per il prossimo anno. Inizieremo anche per tempo i lavori di ristrutturazione, di manutenzione dei locali insieme ovviamente all'assessorato ai lavori pubblici. Questo proprio nell'ottica di una programmazione a lunga scala che ci consente di poter dare il meglio a chi ovviamente il servizio lo fruisce. E quindi programmazione, controlli, qualità. Questa è una sintesi di quello che è stato il servizio mensa promosso e organizzato dall'assessore Liceabela. Dobbiamo dirlo per fortuna dall'assessore Liceabela perché finalmente per un anno non abbiamo visto nessuna protesta a Palazzo di Città. Le operatrici sono rimaste a lavorare nelle cucine, nelle cucine hanno ricevuto tutte le autorizzazioni dell'ASP che avevano impedito di programmare un giusto servizio e di garantire l'avvio di questo servizio nei tempi scolastici. Ricordiamo l'anno precedente, era iniziato il servizio a febbraio, non per colpa magari dell'assessore che arrivava ma ereditava una cattiva gestione. Questo non avviene più. Questo lo diciamo noi, però noi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di dialogare con voi. Linea diretta è questo, potete inviare i vostri messaggi, le vostre domande all'assessore, al numero che vedete in sovraimpressione, è il 348-7937364. Noi continuiamo la nostra conversazione, ma interroppeteci pure, il bello di diretti è questo, non c'è una scaletta, sarete voi e siete voi come ogni volta a dettare i programmi di questa trasmissione televisiva. Andiamo avanti con i contributi, i contributi riservati agli inquilini morosi incolpevoli. Anche in questo caso è riuscita ad organizzare bene e a risolvere il problema. Come? Sono tanti i cittadini gelesi che, come dicevo anche prima, parlando ovviamente di altro argomento come può essere quello della mensa scolastica, che in questo momento hanno delle condizioni magari economiche di particolare svantaggio. Questo può portare, nonostante ci possa essere la buona volontà ovviamente da parte di un padre di famiglia, di un nucleo familiare, che è come appunto composto in maniera variegata, può portare ad una problematica molto grave, che è quella appunto dell'incapacità, dell'impossibilità o meglio, di poter pagare il canone di affitto di un'abitazione. Ebbene, capita quindi di essere inquilini morosi incolpevoli, poiché appunto senza colpa, cioè non fatto per volontà propria, ma perché proprio in condizioni oggettivamente che impediscono appunto il nucleo familiare di poter assolvere al pagamento della quota annuale riservata o mensile riservata appunto al canone di affitto. Proprio per questo motivo è stato istituito un fondo, un fondo economico che raccoglie innanzitutto le istanze ovviamente di chi ne farà richiesta e che darà la possibilità di poter ricevere un contributo non direttamente erogato a chi ovviamente ha questo debito, ma che andrà a saldare il debito, quindi che va appunto a ripagare colui con il quale affitta l'immobile e che quindi darà una bella mano, un sollievo immagino a chi ovviamente vive in una situazione economica di disagio. L'importo massimo è fino ad 8 mila euro l'anno, quindi ripeto è un aiuto veramente importante, è un fondo di circa 40 mila euro che andrà ad esaurimento e che quindi vedrà la possibilità ovviamente poi verrà stilato un aggradatore che terrà conto di diversi parametri, ovviamente il nucleo familiare, la composizione di questo, ovviamente il reddito ISE e di sé, quindi sono diversi parametri che devono ovviamente essere valutati e poi si procederà alla stipula di una vera e propria graduatoria che darà la possibilità appunto di ricevere questo importante contributo che davvero in tempi di bisogno come questi ritengo possa essere un aiuto diretto proprio e concreto rispetto ad un problema reale. E questo è un aiuto anche perché le somme vanno direttamente a chi affitta, quindi non c'è un giro assolutamente. In passato qualcuno ci aveva abitato diversamente, ma parliamo ancora delle fasce più deboli e quindi come facciamo a non chiederle del PAE, del piano di assistenza individualizzato? Sì, questa è una grande sfida che noi stiamo proprio portando avanti, dopo gli scandali che si sono succeduti a livello regionale riguardo appunto al tema della disabilità che è un tema sempre molto molto forte e molto sentito da parte ovviamente dei cittadini perché va a toccare ovviamente le fasce più deboli i cittadini che comunque soffrono di disabilità. I piani di azione individuali sono dei piani appunto studiati proprio per garantire ai cittadini una risposta specifica rispetto appunto a quelle che sono poi le richieste e le distanze. Andare a sviluppare dei piani rivolti a tutto il mondo della disabilità è un lavoro enorme, ma noi stiamo proprio avviando una fase di censimento della disabilità, una cosa che non è mai stata fatta finora e che comporterà un lavoro veramente importantissimo nei nostri uffici. Stiamo proprio avviando questa fase, procederemo per gradi perché è un lavoro veramente immane e ci servirà ad avere una relazione reale rispetto ai problemi che vengono rappresentati. Spesso quando si parla appunto di disabilità si parla di mondi molto opposti. C'è chi vive una disabilità di carattere fisico piuttosto che di carattere mentale. Quindi queste diverse tipologie ovviamente hanno bisogno di riscontri poi nello specifico che devono essere cuciti veramente su misura. Noi questo stiamo tentando di fare, cercare di capire quali sono i bisogni reali del territorio, di analizzarli scientificamente e di portare dei risultati che possono essere specifici rispetto alle problematiche che appunto emergono. E quindi riuscire poi in ambito distrettuale, poiché Gela fa parte di un distretto sanitario importante e Gela è il capofile del distretto sociosanitario numero 9, riuscire poi nella redazione di quelli che sono i piani che quindi servono a dare una risposta socioassistenziale, sociosanitaria rispetto ai problemi del territorio, riuscire a fare quello che è il lavoro di programmazione che un territorio come Gela, complesso, articolato e particolare come Gela appunto richiede. Quindi è un lavoro lungo capillare che certamente però porterà secondo me dei grandi risultati e noi ci pregiamo appunto di averlo avviato con grande convinzione e con grande determinazione perché non è una cosa facile, si poteva anche non fare, bypassare, non pensarci nemmeno invece è una cosa che noi teniamo molto a fare. E se parliamo di disabilità non possiamo che sottolineare un altro importante aspetto, un altro importante intervento che è un adeguamento che ha fatto il Comune e grazie a lei assessore. Parliamo del segretario sociale, finalmente l'abbattimento delle barriere architettoniche spostando la sede. Questo per dire cosa? Per annunciare finalmente la pubblicazione del fondo unico di disabilità per i pazienti gravissimi, per i disabili gravissimi. In questo caso il Comune ne esce a testa alta, perciò le chiedo a lei come possono accedere i soggetti, anche perché chi presenta la domanda lo può fare sia attraverso il Comune che attraverso l'Asp. In questo caso la situazione non è rosia. Abbiamo ancora degli uffici, mi riferisco a quelli di via Parioli, dove non è facile accedere, anzi non è possibile accedere, sono completamente inaccessibili, sono off limits per chi è costituito a vivere in una carrozzina, sono ancora al terzo piano, in un edificio che più volte lo stesso manager dell'Asp, Carmelo Iacono, aveva detto di poterne fare a meno, aveva parlato anche di un nuovo bando, ma in realtà la situazione è ancora statica, quegli uffici vengono utilizzati, non sono idonei. Un altro problema è il CSM, il centro di saluto mentale che riceve questi pazienti in via Madonna del Rosario, non ha un ufficio per accogliere queste istanze. Voi cosa avete fatto per sopperire a questi problemi, per comunque dare una risposta positiva ai cittadini? La risposta positiva noi l'abbiamo già cominciato a dare l'anno scorso, parlavi giustamente di barriere architettoniche. Questo è stato uno dei nostri punti fissi, perché abbiamo tentato... Scusi se l'interrompo, questa è una domanda, un quesito che ci ha sottoposto l'avvocato Paolo Capici, che salutiamo, della situazione H, molto attento alle problematiche dei disabili. E mi fa piacere proprio salutare e ringraziare Paolo Capici per la collaborazione che ha sempre riservato, perché non è da tutti riuscire a dialogare in maniera positiva, senza veramente fuori dalle polemiche sterili, ma cercando di essere costruttivi. Questo è quello che è avvenuto. L'anno scorso abbiamo spostato un altro ufficio dei servizi sociali, proprio a piano terra, rendendolo facilmente accessibile a chi si trova nelle condizioni di disabilità fisica, quindi poiché è in carrozzina, magari con un tutore. Quindi riuscire ad accedere agli uffici pubblici è un diritto che noi vogliamo fortemente perorare. Il servizio di segretariato sociale è facilmente accessibile, ovviamente da parte di tutti. È un ufficio che è munito di uno scivolo proprio adatto alla salita dei disabili che si trovano in carrozzina. E all'interno del segretariato sociale sono diverse le stanze dei cittadini che pervengono, tra cui anche queste belle stanze che stiamo esitando in questo momento insieme all'ASP, proprio per i disabili gravissimi. Sono delle richieste che una volta esitate poi daranno la possibilità di accedere a dei bonus che ancora deve essere chiarita da parte della Regione come le modalità di spletamento di questo beneficio e darà la possibilità alle famiglie che hanno all'interno del loro nucleo familiare un disabile grave di poter avere dei sussidi per quanto riguarda l'accudienza. Quindi un sussido economico molto importante che darà la possibilità, ripeto, di avere un'assistenza concreta, quindi una risposta ad un bisogno reale. Le stanze vanno presentate sia al Comune di Gela sia all'ASP. Proprio in questi giorni io ho tentato di contattare il dottore Spoto, che è il referente dell'ASP territoriale, per cercare di chiarire quali sono i passaggi, visto che i due enti vengono coinvolti in maniera paritetica, quindi hanno uguale responsabilità e quindi tentare di capire come possiamo cercare di far oleare bene gli ingranaggi per fare in modo che le domande che giungano possano essere esitate senza problemi di carattere burocratico. È pur vero che la Regione non ci ha inviato un formulario standard e quindi siamo stati noi, proprio nell'ottica di voler, ripeto, sempre fornire il servizio al cittadino, ci siamo ingegnati a creare un modello che possa essere unico. Non è ancora chiaro, ripeto, se da parte della Regione, se da parte, scusate, dell'ASP, il documento vada inoltrato alla sede presente sul nostro territorio o invece inviato direttamente a Caltanissetta. Spero di avere entro domani mattina una risposta proprio in merito perché preme, appunto, sottolineare che l'iter burocratico possa essere seguito da tutti i cittadini in maniera corretta senza poi avere vizi di forma che possano inficiare le domande stesse. Oggi lo diceva il commissario Francesco Marino, del commissario di Polizia, durante la conferenza stampa dei 12 arresti effettuati a Gela. Questa è la settimana della legalità. C'è un messaggio arriva da Giusti di Dio, dice amministrazione, cosa state facendo? La settimana della legalità ritengo sia fondamentale in un posto come Gela, in un posto che ha vissuto le stragi di mafia degli anni 90 e proprio oggi ricordavo quel 23 maggio di ormai 25 anni fa dove perse la vita il giudice Falcone. Ritengo che da questi momenti si debba sempre trarre un momento di carattere culturale che possa essere veramente di svolta rispetto ad una società come quella di Gela che richiede veramente tanta attenzione. Ebbene, io noto come veramente sia proprio adesso il momento, sta per iniziare il momento in cui i figli, per ragioni anagrafiche, chiamiamole così, di Falcone e Borsellino stanno cominciando ad entrare dentro le istituzioni e i figli di Falcone e Borsellino portano dentro di sé veramente la memoria viva di quello che avvenne. Prima all'interno delle istituzioni, delle scuole, delle famiglie, non si parlava di mafia, non si parlava di legalità. Falcone e Borsellino non sono morti in vano, anzi davvero adesso sulle nostre gambe camminano i germi della loro genialità, della loro intuizione, della loro forza. All'interno delle scuole gelesi si stanno susseguendo una serie di iniziative, c'è addirittura chi decide di fare non la giornata della legalità, ma la settimana della legalità. Proprio un modo per aprire, proprio nei quartieri che hanno più bisogno di sentire le istituzioni vicine, di aprire queste scuole a questi momenti di confronto, dove l'istituzione è presente e tende la mano veramente a queste giovani generazioni, proprio per far capire l'importanza della giustizia. Queste non sono parole, possono sembrare forse parole ridondanti, possono sembrare parole che... ma in realtà parlarne aiuta a metabolizzare, a capire quanto, se circondati veramente da positività, da giustizia, si possa pensare di poter dare una svolta ad una società intera. Quindi in questi giorni, ripeto, sarò coinvolta in diversi momenti conviviali, insieme alla presenza delle istituzioni, insieme all'arma dei carabinieri, insieme al prefetto, proprio per dare un segnale chiaro, evidente, tangibile della presenza delle istituzioni all'interno delle scuole, perché i ragazzi non dimentichino e non si avvicinano nemmeno per sbaglio a quelli che sono dei fenomeni davvero che devono essere debellati. Falcone diceva proprio questo, che la mafia è un fenomeno sociale, umano, e quindi come tale ha avuto un inizio e avrà una fine. Io mi auguro che questa fine possa essere veramente riscontrabile in questa generazione, che questi 12 arresti di OAD di questa notte servano davvero a dare un senso di presenza nel territorio delle istituzioni, perché con le istituzioni non si scherza, si è uniti e compatti per cercare di creare sempre il bene comune, quindi quando si creano delle reti positive e incentivanti non si può che ottenere un risultato che possa essere buono. Gela non può, nonostante la situazione sociale, economica particolare, non può tornare indietro agli anni 90. Questo è un messaggio chiaro, forte e inequivocabile. C'è una bellissima classe dirigenziale nelle scuole che le sta aprendo, le sta colorando, le sta riempiendo di aria, di ragazzi, di positività, di istituzioni, e quindi questa deve essere, ripeto, la svolta culturale che Gela merita. L'operazione di oggi, 12 arresti, 5 minori, questo è un aspetto che è stato evidenziato dalla classe dirigente delle forze dell'ordine, la magistratura, un po' da tutti, che hanno fatto da ECO per evidenziare questo aspetto. Addirittura il dirigente Nico De Maio, un gradito ritorno in città, al commissariato di Gela, ha detto trovo la città ancora una collaborazione minore rispetto a quando io operavo in questa città. Questa è la mia impressione, spero solo di sbagliarvi. In realtà questa operazione è stata caratterizzata da una mancanza completa, assoluta di collaborazione da parte dei cittadini che assistivano passivamente all'azione di questa banda dove i giovani e questi minori, questi delinquenti, speriamo che vengano recuperati grazie a questa interventa, a questa operazione, agivano indisturbati davanti agli occhi di tutti, bruciavano macchine, facevano rapine, cioè una situazione veramente preoccupante. Ma le forze dell'ordine in una settimana hanno messo a segno due importanti operazioni, due importanti arresti, quindi la domanda è quando è importante tenere vivo a Gela il sacrificio delle vittime di mafia. Direi importantissimo, perché non si può dimenticare, certi eventi che si susseguono magari nell'arco del tempo, che si ha il piacere di ricordare, queste famose giornate della memoria, mi piace definirle come dei nodi che si fanno al fazzoletto, perché davvero ricordare, avere una memoria collettiva, comune, crea un senso di comunità e quindi un senso di legame rispetto a dei valori. Questo deve essere il senso di queste giornate della memoria, di queste giornate dove si commemorano appunto delle vittime di mafia. Gela negli anni 90 era una città difficile, io la vivevo ovviamente da bambina, ma ricordo davvero si aveva il terrore di uscire fuori dalle case, davvero si aveva il terrore che gli essortori potessero arrivare in qualsiasi momento e pretendere ciò che non era frutto del loro lavoro. Oggi la situazione è molto cambiata, sul territorio esistono delle associazioni anti-racket che sono molto forti, insistenti. Non dico che il problema è stato debellato, però lo si combatte e lo si combatte a testa alta con esempi positivi. C'è la vedova Giordano che è sempre presente e rappresenta la memoria viva di rispetto appunto a quello che è la nostra storia locale. E poi, bene, ripeto, questo lavoro all'interno delle scuole perché diventi un fatto di carattere culturale secondo me è fondamentale, perché non si può rimanere inermi di fronte a degli episodi di vandalismo, di mafia, perché le cose vanno chiamate con il loro nome. Si deve costruire una rete di comunità, una rete dove vi è la coscienza di carattere sociale che possa essere impressa in positivo e che quindi renda responsabile il cittadino delle azioni anche dell'altro, perché collaborare, essere partecipi, essere presenti, essere parte attiva di una comunità non può che portare poi risultati a livello globale per tutti. Istruzione, legalità, ne abbiamo parlato. Arriva la domanda di Lucio Scollo, dice che l'anno scolastico avvolge al termine, se la senti tracciare un bilancio? Io dico che le scuole giolesi, veramente lo dicevo prima, stanno facendo un ottimo lavoro proprio per la capacità di questa nuova classe dirigenziale di essere innanzitutto formata in maniera eccelsa, positivamente. Io davvero ritengo ci sia un'ottima classe dirigente in tutte le scuole giolesi. Ci sono certe scuole che veramente si aprono al territorio, che offrono dei servizi davvero ai quartieri e che in maniera positiva organizzano le forze territoriali per creare appunto un fatto culturale. Ci sono diverse scuole che quest'anno hanno aperto i battenti ripeto alle comunità dei loro quartieri, si sono spese per la manutenzione per esempio all'interno delle scuole e quindi hanno dato il loro apporto fattivo anche all'amministrazione comunale in maniera positiva, non solo attraverso una critica serile ma proprio aiutando in maniera concreta. E poi ci sono queste scuole che si aprono al territorio attraverso la creazione di biblioteche comunali, di punti di lettura e quindi questo non può che essere ovviamente un carattere estremamente positivo. e altre che decidono di fare settimane della legalità, settimane contro il bullismo, cyberbullismo, argomento attualissimo e quanto mai legato veramente ad un sistema che sembra essere spesso fuori controllo. E' lì che i nostri dirigenti scolastici hanno una grandissima attenzione e presenza, non si limitano mai e danno la possibilità ai ragazzi di formarsi positivamente rispetto a quello che sono le tematiche inerenti ai problemi quotidiani che poi loro vivono, coinvolgendo sempre i genitori, coinvolgendo sempre il territorio, coinvolgendo sempre le istituzioni, rendendole presenti e quindi non andando mai fuori tema, essendo sempre opportuni. Quindi il bilancio che io ovviamente mi sento di fare è assolutamente positivo rispetto davvero ad una rete scolastica importante che lavora e che collabora ovviamente con l'amministrazione comunale. Io mi sento spesso con appunto con gran parte dei dirigenti scolastici con i quali appunto vi è un rapporto ottimo perché riteniamo sempre che la formazione sia appunto che sia un fatto culturale quello della svolta quindi quale migliore istituzione sono le scuole appunto quella per poter dare un risultato poi rispetto alle esigenze e alla svolta culturale che noi ci auguriamo possa essere appunto attuabile il primo possibile a Gela che già effettivamente si sta attuando. Assessore, quando lei ha accettato la delega all'istruzione, quindi quando si è insediata, ha trovato una situazione difficilissima. Dopo un anno, oggi le scuole, nessuno viene più a protestare. Il bilancio, come ha detto lei, è soddisfacente. Cosa ci possiamo aspettare col suono della nuova campanella, della nuova stagione scolastica 2017-2018? Io dico che ci vuole un senso di responsabilità da parte dei genitori, da parte delle istituzioni, da parte dei dirigenti scolastici e di collaborazione. Se si ha la percezione di queste due fondamentali misure, si può migliorare. Ovviamente tutto è migliorabile, le istituzioni scolastiche, le strutture delle scuole stesse possono essere migliorate. Il rapporto con i docenti può essere migliorato. Il rapporto, quello che noi possiamo portare come amministrazione comunale, certamente può essere sempre migliorato. Nell'ottica però di una programmazione che possa però essere responsabile. Perché è bello, è giusto accettare le critiche, ma è giusto anche prendersi le proprie responsabilità e operare in senso positivo per rapportare quelle che sono le migliorie, ovviamente che possono essere presenti in un mondo complesso come quello della scuola, dove si parla di servizi, dove si parla di cultura, dove si parla di disabilità, di diversità, di uguaglianza. È un mondo complesso, è un mondo culturale, è un mondo che deve incontrare, che deve fare rete con il territorio, con l'istituzione e con le amministrazioni ovviamente. C'è anche la domanda dell'Alberto, forse è più legata ai lavori pubblici. Chiede se dal prossimo anno ci saranno nuovi edifici, si inaugureranno nuovi edifici e comunque nuove strutture all'interno delle scuole esistenti. No, le scuole esistenti diciamo rimarranno in linea di massima quelle che sono già presenti. Più che altro apporteremo delle migliorie proprio alle strutture scolastiche. Ovviamente non è un lavoro che si può fare adesso, poiché ci sono ancora le attività didattiche in itinere e quindi sarebbe una follia pensare di poterlo fare ora. Di certo so che si sta facendo una programmazione perché riguarda le strutture scolastiche, quindi come manutenzione e poi ovviamente anche in concomitanza rispetto alla prima domanda che quando parlavamo di mensa scolastica, appunto la manutenzione rispetto a quello che sono i centri di cottura e tutto quello che è l'apparato necessario per la fornitura del servizio mensa, quello deve essere ovviamente attenzionato nel momento in cui ovviamente le attività didattiche saranno terminate e quindi potremmo dare la giusta attenzione rispetto a quelle che sono le strutture appunto che sono di pertinenza comunale. Il 23 maggio anche la data è segnata come termine ultimo per presentare la manifestazione di interesse per gestire l'Homcare Premium. Di cosa si tratta? Lo vogliamo spiegare ai nostri telespettatori? Certo. L'Homcare Premium è un servizio erogato dall'Inps e che riguarda praticamente i lavoratori della pubblica amministrazione. È un servizio che appunto viene erogato e che riguarda soprattutto appunto le disabilità, quindi gente disabile che all'interno di nuclei familiari appunto che hanno dei parenti o degli affini o che per loro stessi appunto sono dipendenti della pubblica amministrazione, è stata fatta una manifestazione di interesse proprio per individuare il nuovo ente che appunto fornirà il servizio. Quindi è una cosa che riguarda in questa fase preliminare poco il cittadino perché ovviamente si tratta di una cosa strettamente riguardante gli addetti ai lavori, ma che ovviamente è importante che continui ad esserci perché fino ad oggi c'è stato e noi continueremo ovviamente ad essere l'ente tramite attraverso appunto il quale viene erogato questo servizio, che è un servizio appunto dell'Inps e che ha bisogno necessariamente della collaborazione e dell'aiuto ovviamente del comune come ente e quindi del settore servizi sociali. Nel settore servizi sociali e quindi andiamo avanti, parliamo anche del sostegno per l'inclusione attiva. Sì, la Cartasia è un servizio, pure questo, dove l'Inps ci chiede di avere il nostro supporto in termini di aiuto di raccolta delle istanze che vanno sempre presentate presso il segretariato sociale e che dà un aiuto concreto alle numerose famiglie che si possono trovare in situazioni economiche svantaggiate e quindi attraverso un'istanza e attraverso appunto una serie di requisiti che debbono essere presenti, quindi un reddito da 0 a 3.000 euro, un nucleo familiare ovviamente più numeroso è, più l'incentivo sarà ovviamente alto, dà la possibilità economica di poter usufruire di un supporto appunto economico che viene erogato. Il Comune di Gela appunto raccoglie le istanze che vengono caricate poi su una piattaforma direttamente collegata appunto rispetto all'Inps e poi vengono fatti dei piani individualizzati proprio in base alle esigenze del richiedente e poi viene erogato appunto il beneficio di carattere economico. Naturalmente arriva anche una domanda da parte di Salvatore, non lo conosciamo, non diciamo il cognome, lui dice, chiede e chiede, ma è servizio a cudienza nelle scuole, negli anni ha avuto dei problemi, quest'anno si è arrivati finalmente alla fine dell'anno scolastico una programmazione per il 2017. Questo è veramente un ambito di discussione molto complessa, noi all'interno delle ristrettezze economiche che sono presenti appunto nel bilancio comunale, destiniamo una parte importante veramente del nostro bilancio rispetto ad un servizio che certamente è necessario ma che non è dovuto al 100% dal Comune. Abbiamo approdato una modalità di espletamento quest'anno leggermente differente, abbiamo responsabilizzato gli enti che sono coinvolti in questo difficile tematica e ci auguriamo che per il prossimo anno valgano le premesse che ci siamo fatti quest'anno e che quindi si possa in qualche modo apportare poi le giuste misure e le giuste valutazioni per fare in modo che il prossimo anno vi sia una migliore qualità del servizio. Io ci tengo a fare una precisazione, il mondo dei servizi sociali è veramente un mondo vasto, pieno di servizi e pieno di specificità. Spesso capita che anche ovviamente in maniera, soprattutto, anzi se non esclusivamente, in maniera involontaria possa capitare il disservizio. È riguardante soprattutto le fasce deboli, le fasce fragili della nostra società. È chiaro che viene facile riuscire a creare una polemica. Io mi auguro che sempre valga la possibilità di poter apportare delle modifiche e che vi sia la possibilità di creare una rete, una rete che sia efficiente e che sia propositiva. Oggi, ad esempio, parlavamo di disabilità mentali proprio con il Dipartimento di Salute Mentale di Gela. E si parlava dell'inefficacia di come per anni, dal 2012, per esempio una direttiva regionale, imponeva la creazione di un tavolo che potesse essere di concertazione proprio degli enti territoriali riguardante la disabilità mentale. Dal 2012 ad oggi, quindi sono passati cinque anni piedi, non è stato fatto. Noi abbiamo interloquito con il Centro di Salute Mentale e stiamo tentando di portare delle risposte, delle risposte concrete. Siamo stati presenti oggi, siamo favorevoli ovviamente all'istituzione di questo tavolo di confronto perché questo possa portare, ripeto, sempre a quello, al risultato finale, ad offrire al cittadino una risposta personalizzata rispetto a quelle che sono le proprie esigenze. Quindi che non si pensi che davvero il nostro è un pugno veramente duro e forte in tematiche così scottanti che hanno creato giustamente diverse problematiche, diversi scontri tra virgolette fazioni diverse. Noi siamo perché si creino questi tavoli di confronto ma che questi tavoli di confronto non rimangono lettera morte e che anzi ci aiutino in maniera più forte a portare ai giusti tavoli davvero delle problematiche così importanti. Si pensi che, ad esempio, il Comune di Gela ha dei trasferimenti economici sempre davvero meno rilevanti e che, soprattutto per quanto riguarda, ad esempio, la salute mentale, vi è l'impossibilità quasi di poter ottemperare al 100% quello che è un percorso di carattere socio-sanitario quindi che vede la compartecipazione di non solo il Comune come ente ma ovviamente anche dell'ASP di poter dare seguito e ampio seguito a quello che è un percorso di reintegrazione del malato mentale che non si pensi che il malato mentale può essere una persona che deve essere ghettizzata, allontanata dalla società no, il malato mentale, se è giustamente seguito, può essere reinserito all'interno della società ma ovviamente se non vi sono dei tavoli di confronto, non vi è una sinergia, una collaborazione con gli enti territoriali interessati direttamente e indirettamente rispetto ad una tematica così importante non si può pensare di poter andare, ripeto, ai giusti tavoli ministeriali o tavoli regionali e battere i pugni affinché è vero che noi dobbiamo come ente comunale avere l'onere di dover rispletare un servizio ma che lo Stato, che la Regione ci dia la possibilità di avere dei fondi economici adeguati rispetto alle esigenze del nostro territorio tutto si ricollega perché se noi stiamo proprio facendo un piano individuale, stiamo fornendo il quadro matematicamente, scientificamente corretto rispetto alla situazione attuale del Comune di Gela, pretendiamo che poi le risorse economiche, strumentali e anche ovviamente professionali che vengono messe a disposizione dell'ente comune siano proporzionate rispetto a quella che è la nostra esigenza quindi tutto questo è in un quadro di massima attenzione nei confronti del mondo della disabilità che ha veramente dei margini molto importanti soprattutto in un territorio difficile come quello nostro E in questo caso non solo è stato fondamentale essere riuscita a sedere tutti attorno a un tavolo l'ha fatto anche convocando i rappresentanti della situazione di volontariato per chiarire molti aspetti e per trovare comunque una sinergia e andare avanti, garantire un'assistenza vera concertata con l'amministrazione comunale Certo, questo è l'obiettivo proprio del tavolo il tavolo è stato promosso dall'ASP e dal Comune di Gela ma il proposito è proprio quello di creare delle sinergie che possono essere propositive che possano portare appunto il risultato che noi ci ospichiamo Noi siamo aggiunti al termine, però lei è un assessore, è un amministratore delegato di un'azienda e pure una mamma, quando è difficile coniugare tutto? È difficile ma non solo ci devo provare ma ci devo anche riuscire perché non posso farne a meno e quindi insomma con il grande aiuto ovviamente della mia famiglia devo necessariamente riuscirci ed essere positiva in questo non è facile però ripeto è una cosa che devo fare ma mi piace essere impegnata su tanti fronti lo trovo stimolante e particolarmente positivo soprattutto per una persona come me che quando si afferma poi sta male quindi va bene così Finalmente un assessore giovane, un bel sorriso ma molta professionalità e questo è quello che noi possiamo sottolineare dopo un anno, tracciando un anno di bilancio dal suo insediamento la ringraziamo per essere stata qui con noi Grazie a voi per avermi invitata E noi vi rinnoviamo l'appuntamento per martedì prossimo alle 18 con Linea Diretta qui in studio a condurre il programma era Luca Maganucco Linea Diretta Voce ai cittadini L'amministrazione risponde Ogni martedì alle 18 In diretta web su quotidianodigela.tv Il sindaco e la giunta rispondono alle domande dei cittadini Live sulla pagina Facebook del quotidianodigela.it L'amministrazione rispondono alle domande dei cittadini